gli amici e i compagni del Piemonte per l'organizzazione dell'iniziativa. È arrivato il momento del nostro segretario nazionale, la parola a Matteo Renzi. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, comodi, comodi, buongiorno a tutti. Grazie a tutte e a tutti per questo appuntamento, buongiorno a tutti, Sergio aiutami tu, Chiamparino si è messo a sedere quindi vale per tutti. Sono davvero grato a tutti e a tutti per essere qua a Torino in un momento non semplicissimo peraltro perché subito dopo la ripresa dalle vacanze di Natale abbiamo scelto di fare l'assemblea degli amministratori e devo confessare che è partita una discussione con Matteo Ricci molto delicata perché Ricci diceva Torino è meno facile da raggiungere, capisco il significato politico e poi ho fatto tanto non riuscirai a riempire la sala. Da stamattina Ricci mi sta tempestando, credo che ci siano già i presupposti per il reato di stalking per dire che non li fanno neanche entrare, facciamo un applauso a Matteo Ricci e a tutti gli amministratori del PD che sono qua oggi e a quelli che ci seguono in streaming che sono altrettanti. Allora mancano 50 giorni alle elezioni, proprio 50 giorni, succo la vita, mancano 50 giorni pari pari, precisi precisi e sono 50 giorni in cui, ieri Paolo Gentiloni scherzava su questo dicendo adesso diremo tutti che sono i 50 giorni decisivi per il futuro dei 5 anni, vero? bene, ma sono 50 giorni in cui il ruolo delle persone, in particolar modo degli amministratori locali, è più forte del passato. Non lo dico perché voglio gasarvi, esaltarvi, motivarvi, ma perché vi sono studi, in particolar modo uno di Rachel Botsman che continua a sostenere, soprattutto nella letteratura americana, come nel tempo che stiamo vivendo sono venuti meno i tradizionali elementi della fiducia. Primo momento della società civile, piccoli comuni, piccole realtà, piccole comunità, ciascuno si fida dell'altro, tutti si conoscono. Secondo momento, formazione dello Stato-Nazione. Le autorità, le istituzioni sono i soggetti ai quali attribuiamo la credibilità di dire ciò che è vero e che non è vero, le istituzioni. Questa fase sta avvenendo meno, in particolar modo per effetto dei social network, ma non soltanto per quello. La diffusione di un sapere orizzontale che mette in discussione tutto porta a non credere più a niente. Perché? E voi mi dite, ma perché rivendichi sempre i risultati? Perché tutte le volte che partiamo dobbiamo, come in un labirinto, dire noi siamo qui? Perché continuiamo a dire che il PIL era meno 2% e adesso viaggia verso il più 2%? Perché continuiamo a dire che la disoccupazione ha bloccato la crescita? Anzi, abbiamo un milione e 29 mila posti di lavoro in più, secondo l'Istat, di cui il 53% a tempo indeterminato, ma è un numero incredibile rispetto alle previsioni del 2014. Perché sentiamo la necessità di rilanciare costantemente, per esempio sulla fiducia delle famiglie, sull'export, sulla produzione industriale? Perché al tempo dei social media e nel momento del sapere orizzontale nessuno crede più a niente. Stai esagerando? Ieri una persona straordinaria che si chiama Barack Obama è tornato in televisione dopo un anno dalla sua dipartita dalla Casa Bianca. Io quando penso a ciò che è accaduto alla mia vita, tra gli elementi positivi dico che è stato meraviglioso poter incrociare persone nella vita di tutti i giorni, nelle periferie, nella realtà quotidiana che mi hanno insegnato tanto. E questo lo sapete anche voi, sindaci, perché poi è quello che un sindaco si porta dietro, l'incontro con le persone, guardarsi negli occhi, prendersi anche qualche insulto, ma avere la possibilità di un rapporto umano che è la cosa più grande, il dono più grande, il lusso più grande che può avere un sindaco e un amministratore. Quando sono diventato presidente del Consiglio, tra le cose che la sorte mi ha lasciato con il segno decisamente più, è il fatto di aver incontrato alla Casa Bianca un signore che si chiamava Barack Obama, perché penso che ci sono delle persone che fanno la storia ed altre che la storia la inseguono. Ieri Obama, parlando con Letterman in questo primo incontro televisivo dopo un anno, ha puntato esattamente il tema su questo elemento. Ha detto esattamente questo. Oggi l'emergenza della politica non è la geopolitica internazionale, non è la crisi delle periferie, è il fatto che le donne e gli uomini del nostro tempo non si fidano più o, in alcuni casi, si fidano più degli amici di Facebook che non dei soggetti istituzionali. Allora, attenzione perché non basta applaudire. Questa è una chiamata l'azione per ciascuno di noi. Perché io sindaco, io assessore, io consigliere, ho una chance in più. Esco dal magico mondo del virtuale e una stretta di mano nella nostra campagna elettorale, nei 50 giorni che verranno, vale più di un like. Bisogna essere presenti anche sui social e poi ci arriverò. Ma il punto fondamentale è che voi, amministratrici e amministratori, siete in prima linea non solo perché del tutto legittimamente qualcuno di voi spera di essere candidato, ma perché è nella capacità di radicamento territoriale del PD, se tiriamo fuori l'orgoglio e la grinta, che noi abbiamo un'arma da giocare straordinaria nei prossimi 50 giorni. Perché se io vado incontro alle persone e quei numeri del milione di posti di lavoro, del 2% del PIL, della crescita della fiducia, degli investimenti che crescono, della capacità di un Paese di rimettersi in moto quando era fermo, bloccato, li racconto io, consigliere comunale, li spiego io mettendoci la faccia, mi sento parte di una squadra, allora le cose cambiano. Se le lascio alla televisione, nella dinamica anche di queste ore, non c'è nessuno che sarà in grado di essere efficace come ciascuno di noi. Ecco perché, caro Matteo, accanto al lavoro sui contenuti su cui tra qualche istante vorrei soffermarmi e di cui ti ringrazio perché anche nella giornata di ieri, nei talk di stamani mattina, negli interventi di stamani mattina, ho trovato degli spunti molto interessanti. Accanto al lavoro sui contenuti, i sindaci, la rete territoriale degli amministratori, è cruciale per le prossime elezioni, è cruciale a condizione di crederci. Naturalmente bisogna fare un investimento forte sulla lotta alle falsità. Le chiamano fake news, un tempo si chiamavano bugie, balle spaziali, chiamatele come volete. Noi abbiamo iniziato un lavoro da spazzini del web con il report del PD che ha portato, non più tardi di 24 ore fa, a chiudere altri due siti che erano collegati ai rilanci di pagine per due milioni di fan su Facebook. Ora capite che è strano che il report sulle fake news, sulle bugie lo debba fare il PD e mi piacerebbe domandarvi quanti di voi lo hanno letto. Tranquilli, non interrogo. Ma anche noi talvolta non siamo neanche bravi a condividere tra di noi le informazioni che arrivano. Magari ci arriva il Whatsapp di Democratica, però non lo inoltriamo. Magari rompiamo le scatole. Non abbiamo questa ansia di comunicare ciò che c'è. Pensate che questa cosa delle fake news non ha avuto un rigo sui giornali nelle ultime 48 ore. Eppure pagine per due milioni di fans sono state bloccate nel giro di 24 ore. L'azienda che gestiva i siti su cui si appoggiavano alcune di queste pagine ci ha chiamato per chiederci scusa. Ci ha chiesto di cancellare il proprio nome del report delle fake news. Non c'è un trafiletto sui media tradizionali su questo. Ma c'è un'esigenza che mentre voi amministratori dovete pulire le città e agli amministratori del PD in media riesce meglio che ad altri amministratori a occhio e croce. Noi dobbiamo anche ripulire il web dalle balle spaziali. La lotta all'inquinamento non è soltanto la lotta all'inquinamento verbale. Io sono rimasto sconvolto dal fatto che l'apertura dell'anno, con danno anche di immagine per noi, è stata tutta sui sacchetti di plastica. Tra l'altro vi segnalo che c'è una cugina della zia della nipote che sicuramente ha un business interessante. Non lo dite però, mi raccomando, perché noi i complotti li sappiamo organizzare bene anche tra San Silvestro e il primo dell'anno. Non ditelo. Ma se all'inizio ti viene da sorridere e da ridere, poi ti viene, quando entri in questa regione, da arrabbiarti a pensare che se vi fosse stata l'attenzione che c'è stata per i sacchetti di plastica, non dico per il dopo di noi, che è una delle riforme di cui siamo più orgogliosi, non dico per il terzo settore, non dico per la legge sull'autismo, non dico per la legge contro lo spreco alimentare, no. Dico una cosa pensando a questa regione. Se vi fosse stato un decimo dell'attenzione che c'è stato sul tema del sacchetto di plastica e della lotta alla plastica, che noi rivendichiamo con forza e che è uno degli elementi che fa del PD il partito più ambientalista che c'è, di un ambientalista non ideologico, ma se vi fosse stato un decimo di quell'attenzione negli anni scorsi sui temi dell'amianto e se a Casal Monferrato non fossimo dovuti intervenire noi con 37 milioni di euro per andare a sanare una ferita squallida di questo Paese, non riporteremo in vita quelle persone, non riusciremo a sanare il dolore di quelle famiglie, ma nel viaggio in treno noi siamo stati a Casale Monferrato a vedere il parco che è stato inaugurato dal Presidente della Repubblica grazie all'impegno di quell'amministrazione della Regione e del Governo. Noi siamo questi e prima di parlare di ambiente con noi sciacquatevi la bocca, noi siamo il PD e se volete fare la campagna sui sacchetti di plastica sappiate che noi rilanceremo sui temi dell'ambiente perché ne va del futuro delle prossime generazioni e noi vogliamo essere orgogliosi di aver firmato a Parigi il trattato sul clima. Noi non abbiamo cambiato idea come hanno fatto gli Stati Uniti. È chiaro però che ciascuno di voi vive una contraddizione. È la contraddizione dei sindaci e degli amministratori. Vorremmo vedere i risultati e spesso non li vediamo. Talvolta capita che i risultati li veda quello dopo di te. Io sono fortunato perché Dario è più bravo di me e ne sta facendo ancora di più. Ma talvolta capita che magari i risultati che hai perseguito, cercato di realizzare, li veda qualcun altro. Questo non può essere per noi un punto problematico. Il punto è che noi dobbiamo essere orgogliosi del fatto che stiamo costruendo futuro. La gente ha paura del futuro o meglio una parte della gente ci vuol far credere che il futuro sia un problema. Noi dobbiamo costruire il futuro. Abbiamo scelto di essere qua, a Torino, perché in questa terra alcuni sindaci, a cominciare da Sergio e da Piero, che sono qua in prima fila e che saluto, hanno avuto nel corso degli anni la forza e il coraggio di provare a fare delle scelte. Ricordo anche Castellani, per correttezza, e anche altri sindaci del passato. Siamo venuti qua a Torino perché ci sono ancora molti comuni che amministriamo. Ieri ho sentito l'intervento della vice sindaco di Settimo Torinese. È iniziato l'intervento dicendo che abito nella città più bella del mondo. Ho fatto che sei trasferito a Firenze questa, non la sapevo. E invece mi ha entusiasmato perché una vice sindaco che dice con forza la mia città è la città più bella. E sono orgogliosa delle fabbriche, sono orgogliosa della biblioteca. Perché, diciamolo da Torino, una delle differenze tra noi e gli altri in questa campagna elettorale è il modo con il quale si guarda la cultura. C'è chi taglia sui musei civici, c'è chi taglia sulla cultura, c'è chi taglia sugli eventi, c'è chi taglia sulle mostre e c'è chi dice che la cultura è il nostro pane quotidiano. C'è chi dice con la cultura non si mangia, il compagno Tremonti. E c'è chi ha dimostrato che la cultura è l'elemento di identità di un popolo. Una delle cose più belle che ha fatto il governo Gentiloni raccogliendo un bando che avevamo lanciato è il progetto Bellezza. So che molti di voi magari non saranno contenti. Non so se Bellacci ci può mostrare la cartina del progetto Bellezza. Questi sono i progetti che hanno vinto, sono 277. Ovviamente ciascuno di voi in questo momento avrà un leggero effetto rosicare, non fa male. Invece rosicare fa un po' male. Perché? Perché è evidente che quando tu hai ricevuto migliaia e migliaia di richieste di intervento, quando non viene accolta la tua un po' ti dispiace. Ma questi cosa sono? Sono piccoli i progetti. Noi abbiamo detto bene intervenire su Pompei, orgogliosi dell'investimento su Pompei, orgogliosi dell'investimento a Reggio Calabria, del Museo dei Bronzi di Riace, orgogliosi del Museo del Marta a Taranto. Perché per rilanciare Taranto ci vuole che si risolva la questione Ilva, ci vuole che si risolva, ha fatto molto bene Graziano, il porto, ma ci vuole anche che la prima città spartana d'Italia sia una città che abbia un'identità culturale. Questo è il PD. E siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto in Campania, a Brera, a Torino, a Firenze, a Venezia. Ma poi abbiamo detto a ciascun sindaco che chiediamo di fare una proposta, di fare un progetto. Questo elenco di progetti è la dimostrazione concreta sul perché abbiamo scelto di venire a Torino. Perché siamo in una città, non abbiamo paura a dirlo, che è stata indicata per mesi e mesi in modello del buon governo dei Cinque Stelle e che come prima cosa ha tagliato sulla cultura. Noi vogliamo non criticare gli altri, rivendicare una differenza con gli altri. Noi sulla cultura non tagliamo. E su questa differenza giocare senza fare polemica, ma mostrare una diversità. Noi siamo gli amministratori che non falsificano i bilanci, che non mettono cinque milioni in più a penna o cinque milioni a meno. E nelle nostre città i revisori dei conti non si dimettono. Guardate che questo è un punto fondamentale da dire. Perché noi non possiamo stare sempre sulla difensiva a farsi raccontare che noi sprechiamo soldi pubblici. Perché non è così. Perché se mi avessero fatto a me una polemica come quella che è stata fatta qua, sui revisori dei conti pubblici, se l'avessero fatto in qualsiasi città che voi amministrate, ci avrebbero portato via. Bisogna avere la forza e la consapevolezza di dirsi che il buon governo è possibile e deve partire innanzitutto dalle realtà locali. E lo dico, chiudendo questa lunga parentesi, anche rispetto alle questioni che riguardano altre città. Anche rispetto alle questioni che riguardano il dibattito di oggi, a me di spelacchio non interessa granché. Il punto non è se spelacchio è bello o brutto. Ogni spelacchio è bello a mamma sua. Il punto è che se spelacchio costa il doppio degli alberi di Natale delle altre città, io non credo che sia un problema di onestà, è un problema di incompetenza, che è una cosa diversa. Il punto non è se è bello o brutto, il punto è se funziona o no un'amministrazione. Quando c'è stata l'emergenza rifiuti, io ho chiamato Stefano Bonaccini e gli ho chiesto, ste, dai una mano a Roma. Lui dice, Matteo, volentieri. Ma all'Emilia Romagna se qualche sindaco, qualche sindaco renziano, turbo renziano, iper renziano, che ha detto che non farà passare i rifiuti, di al sindaco turbo renziano che si passa di dietro, non ti preoccupare. Noi i rifiuti di Roma li prendiamo perché non possiamo pensare che la capitale d'Italia sia sommersa dai rifiuti in piena vacanza natalizia. Tutto pronto. Improvvisamente in una importante azienda privata si accorgono che Stefano Bonaccini è iscritto al PD. Inatteso direi, non se l'aspettava nessuno da Bonaccini. A quel punto si buttano sull'Abruzzo e fanno un progetto con l'Abruzzo. Non li portiamo in Emilia Romagna, se no il PD lucra il vantaggio competitivo, portiamoli in Abruzzo. E dopo due giorni i potenti sistemi informatici della Casa Leggio scoprono che anche Luciano D'Alfonso è iscritto al PD. E voi capite che questa è la dimostrazione più chiara e più concreta, che la colpa dei rifiuti di Roma è del PD, che ne ha iscritti troppi di questi governatori. è evidente che la colpa è del PD. Ora, io non apro il tema sul ciclo dei rifiuti, io non apro il tema sul fatto che non si può continuare a promettere. Io so che voi state aumentando la raccolta differenziata in tutti i vostri comuni. Io so che voi state combattendo per un modello diverso di gestione dei rifiuti. Io so che voi state facendoci, qui Simona Bonafè, che ha lavorato benissimo su questo in Europa, sul rapporto al Parlamento e sull'economia circolare, su come riuscire a creare occasioni di business, perché questo è un pezzo in cui ci saranno occasioni di lavoro per i nostri figli e per i vostri nipoti. Io dico soltanto che non puoi gridare onestà, onestà, onestà e poi alla prova dei fatti dimostrarti incapace di risolvere i problemi. Benedetto Croce diceva che la politica onesta è la politica capace e l'incompetenza è sempre incompetenza. L'incompetenza è incompetenza anche se sorride bene. L'incompetenza è incompetenza anche se si mette la cravatta giusta. L'incompetenza è incompetenza anche se si pettina bene e se va bene in televisione. L'incompetenza è il nostro avversario alle prossime elezioni politiche del 2018. Ci sono 50 giorni per andare a vincere questa sfida e io voglio che il PD si metta in campo con tutta l'energia che ha, senza paura. Anche perché se voi guardate i giornali, gli editorialisti hanno già votato, i commentatori hanno già scelto, i titolisti hanno già deciso, hanno letto i sondaggi e hanno detto che ha vinto il centrodestra. Si sono dimenticati di leggere la legge elettorale che per due terzi premia non le coalizioni, premia il primo partito. Cioè, attenzione, parlano di sondaggi senza aver letto come funziona la legge elettorale. La sfida per il primo posto a queste elezioni non è tra Berlusconi e Salvini, è tra noi e i Cinque Stelle. È una sfida difficilissima, complicata, che io non voglio sottovalutare. Ma la sfida per chi arriva primo è tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico. Lo dico ai moderati che hanno paura dei Cinque Cinque Stelle. L'alternativa non è il centrodestra, è il Partito Democratico, perché o arrivano prima loro o arriviamo prima noi. E lo dico a chi in questa stagione continua a pensare che il Partito Democratico abbia scritto una pagina importante soltanto del passato e del presente. Noi siamo gli unici a poter mettere in sicurezza non i conti pubblici, l'abbiamo già fatto, ma a mettere in sicurezza il futuro di questo Paese. Ah, ma c'è anche il centrodestra. In un terzo dei collegi il centrodestra si cambia. Si cambia dappertutto, naturalmente. Ma il centrodestra è il centrodestra che torna a mettere insieme il modello Arcore vent'anni dopo. Là dove c'era Bossi in canottiera c'è Salvini con la felpa. Sono gli effetti del riscaldamento globale. Là dove c'era Fini c'è la Meloni. Là dove c'era Berlusconi c'è Berlusconi. Qualche capello in più, ma è sempre lui. Il punto chiave è che questa alleanza è un'alleanza che si presenta come l'alleanza della solidità, ma è l'alleanza dello spread. Lo ripeto, guardatemi il labiale, sono stati loro il governo dello spread. E noi siamo quelli che siamo dovuti intervenire un po' di corsa, un po' in affanno, per far ripartire questo Paese. Ed è chiaro che non è cambiato niente nella loro credibilità se Matteo Salvini pubblica questo tweet. Febbre e raffreddore. Oltre alla tachiperina avete altri consigli? Ora, lasciamo stare cosa hanno scritto nei consigli che non è il caso, perché poi gli odiatori riguardano anche Salvini e gli diamo la solidarietà. Ma quando la battaglia che la Lega si intesta è la battaglia contro l'obbligatorietà dei vaccini, io rispondo a Matteo Salvini, altri consigli? Chiama un medico, perché noi siamo dalla parte della scienza, non dalla parte di chi chiede informazioni su internet, non dalla parte di chi dice no ai vaccini, non dalla parte di chi mette a rischio la sicurezza dei nostri figli. Candidiamo medici e candidiamo personalità del mondo della ricerca e della scienza, perché vogliamo far capire che tra la superstizione e la scaramanzia e la scienza e la medicina, il PD ha chiarissimo da che parte stare. Il PD ha chiarissimo da che parte stare. E poi c'è Berlusconi. Io sono sempre stato accusato, anche da molti di voi, di essere così vicino a Berlusconi, così amico da Berlusconi, che sono quasi un po' in imbarazzo, perché sentirlo ieri ripetere la storia del quinto colpo di Stato. No, non ridete, la ridetta, ieri. E qualcuno ci crede, e va bene, e noi dobbiamo rispettare. Fa meno male il quinto colpo di Stato che non una polemica sui vaccini, in particolar modo per le famiglie che non hanno accesso all'informazione, perché se tu hai un figlio in una condizione di gravità e magari non hai gli elementi di tranquillità personale, o magari non hai un medico accanto, o magari non hai delle persone di cui ti fidi, quando tuo figlio sta male, io non mi sento di condannare chi nel dolore inizia a digitare con foga e a cercare chissà cosa, ma mi sento nel dovere di dire a queste persone che noi offriamo il supporto della scienza, del Servizio Sanitario Nazionale, che non possiamo lasciare queste nostre famiglie in condizioni di cadere nelle mani degli apprendisti stregoni. Ma il punto di ieri di Silvio Berlusconi non è tanto il colpo di Stato, è che a porta a porta Berlusconi ha mostrato una grande novità. Non è la flat tax, è anche quella. La flat tax, prima o poi qualcuno vorrà affrontare il dibattito in modo scientifico. La flat tax ha una serie di obiezioni culturali, Sergio più volte ce le ha ricordate, vale a dire contesta la progressività del fisco. Fin qui, prendi la Costituzione e il problema è risolto. Ma la flat tax ha un problema maggiore ancora, non so se maggiore della Costituzione si può dire, un problema altrettanto grave, che è quello delle coperture. Perché anche se tu accettassi il principio della flat tax, che io non accetto perché non credo che sia giusto che Berlusconi abbia la stessa liquida dell'operario dell'Ilva, non credo, non credo che sia giusto, non credo che sia banalmente giusto. E' una cosa ingiusta. Ma devi, riguardate quel pezzo di porta a porta, se siete in condizioni psicofisiche per farlo, e vedrete che ci sono tagli per 57 miliardi alle detrazioni fiscali. Io credo che su questo tema sarebbe interessantissimo approfondire, non voglio tediarvi anche perché poi vorrei raccontare alcune cose su di noi, ma c'è un momento in cui Berlusconi presenta la sua semplificazione sulla dichiarazione dei redditi. Non so se chi di voi l'ha visto. Ditelo, tranquilli, non è che poi non si candida la gente per questo. Questo è un momento fantastico, è semplicissimo. Guardate che questa è un'operazione bellissima. Lui va in televisione e fa vedere un foglio, l'ha preparato con le slide del suo ufficio, ha detto, se gli spiego che possono semplificare, magari sono contenti, magari mi votano. Io ho ricevuto persone a me vicinissime che mi hanno detto, bella idea però questa dovevi farla te. Oh ragazzi, sono tre anni che abbiamo fatto la dichiarazione precompilata noi, eh? Non gliel'hanno detto a Berlusconi! Perché poi le fake news vanno anche in seconda serata su Rai 1? Cioè questa cosa qui non è più necessaria perché siamo alla dichiarazione precompilata che 18 milioni di persone fanno, alcune con i commercialisti e 2 milioni da soli. Ah ma come si può andare? Ma il futuro potremmo semplificare ancora. Nel futuro sta accadendo in UK l'obiettivo del 2021 o 2022, non mi ricordo. Saremo all'assuperamento della dichiarazione dei redditi. Perché? Perché è del tutto evidente che con l'incrocio delle banche dati arriverà sempre di più lo Stato nelle condizioni di mandarti un sms per dire quanto devi pagare. Tu devi controllare se va bene o no. Ma questo modello che funziona benissimo per chi non ha seguito tutto ciò che è stato fatto, si scontra con un dato reale, di realtà. La dichiarazione dei redditi precompilata c'è già. Allora vi domando e mi domando. Ma noi, quando rivendichiamo i risultati, lo facciamo per un fatto di puntiglio o lo facciamo perché vogliamo vincere l'elezione? Perché quanti di noi, quando hanno visto porta a porta, sono subbalzati sulla sede e hanno detto, oh ma abbiamo già fatto la dichiarazione di redditi precompilata? Quasi nessuno. Non è passato ciò che noi abbiamo fatto. E soprattutto c'è un sentimento tra i nostri che è un sentimento di dire, vabbè, però se lui la propone evidentemente l'avrà studiata. No, non l'ha studiata. Amici e compagni del Partito Democratico, ci sono 50 giorni per capire se vogliamo fare sul serio o no. Io ve lo dico subito, sì. Io non accetto da parte di nessuno, innanzitutto da me stesso, un solo passo indietro rispetto all'importanza di questa sfida. E credo che ieri Paolo Gentiloni abbia fatto benissimo a ricordare l'importanza e la rilevanza del passaggio del 4 marzo. Ma se ci giochiamo sul serio dobbiamo innanzitutto guardarci allo specchio o se volete, per dirla in modernese, facciamoci un selfie. E mentre ci facciamo il selfie e ci guardiamo allo specchio dobbiamo capire che c'è una diversità enorme tra noi e gli altri. Noi siamo quelli che credono agli Stati Uniti d'Europa, non alla padania libera indipendente. Siamo quelli che credono a un'Europa sociale con l'anima. Ma proprio perché crediamo in questo vogliamo un'Europa più forte, più solida, vogliamo un'Europa più umana. Vogliamo un'Europa, lo so che in campagna elettorale dirlo può sembrare un rischio, più politica. Sabato prossimo con Mercedes e con gli altri amici del Parlamento europeo. Organizzeremo un appuntamento molto importante a Milano con il Partito Socialista europeo e racconteremo che cosa abbiamo in testa per i prossimi anni, come immaginiamo l'Italia dentro il percorso europeo. Ma a tutti quelli della stampa dei commenti che dicono che questa campagna elettorale non ha alcun elemento di concretezza o di grande sogno o di grande visione. Vi prego, andate a rivedervi quello che abbiamo detto qua, a marzo 2017, all'ingotto, quando abbiamo detto di unificare la figura del Presidente della Commissione con la figura del Presidente del Consiglio europeo, abbiamo detto di lanciare le primarie dentro la nostra forza politica per la scelta del Presidente della Commissione europea intanto come primo passo e abbiamo detto che per rendere l'Europa più giusta bisogna renderla più democratica, perché se fanno tutti i tecnocrati di Bruxelles l'Europa non ha futuro. È una posizione, mi dispiace dirlo, che non è cambiata in questi mesi. Non è cambiata. Qualcuno ha detto che noi abbiamo cambiato posizione perché l'asse franco-tedesco oggi è debole. È esattamente l'opposto. L'asse franco-tedesco è forte. Ma non andiamo a spiegarglielo che se no ci rimango male. Rimaniamo sul punto. Cosa vuol dire un'Europa con l'anima? Cosa vuol dire un'Europa sociale? Cosa vuol dire un'Europa democratica? Cosa vuol dire un'Europa politica? Sono 50 giorni in cui discutere anche di questo. Non tocca le persone come le tocca il lavoro, ovvio. Ma se tu non hai un'Europa, un istituto che aiuti nella lotta contro la disoccupazione, non sarai mai credibile in Italia nel fare una battaglia sui nuovi lavori. E su questo lasciatemelo dire a Torino, nel luogo dell'ingotto, in un luogo che richiama la politica industriale, che richiama una grande storia di questo Paese, che richiama una storia con tante controversie, ma una storia che oggi ha un futuro non soltanto a Torino, che da Torino immagina di cambiare il mondo dell'auto e quindi in un luogo che ha un senso profondo per parlare di questo. La prossima campagna elettorale si giocherà anche sul fatto che qualcuno pensa che non ci sia più spazio per il lavoro e qualcuno pensa che il futuro sia il lavoro. Guardatemi, questo è un punto chiave, cruciale. Non è che sono cattivi quelli che propongono il contrario. Ci sono delle persone che pensano che siccome arrivano i robot? E stanno arrivando i robot. E una delle aziende legate al mondo Fiat Chrysler, la Comau, è una delle aziende leader a livello europeo e mondiale dei robot. Non ne parliamo mai. Ma noi abbiamo aziende che sono ancora leader nel mondo su questi settori. Bene, stanno arrivando i robot, sì. C'è l'intelligenza artificiale? Sì. E nessuno può immaginare oggi dove ci potrà portare. Lo dico a voi amministratori, come le smart cities di cui ci riempiamo la bocca cambieranno la vita. Magari in un piccolo comune più che la smart city interesserebbe l'assunzione del lavoro precario, del lavoratore precario per poter avere due persone in più, essendo i piccoli comuni non forti come quelli grandi nell'organizzazione. E anche su questo con Marianna stiamo lavorando. Però le smart cities ormai sono una realtà mondiale. In tutta la letteratura sulle città, che peraltro è sempre più vasta, noi sappiamo che il potere delle nazioni viene un po' meno e il potere delle città viene più forte. L'intelligenza artificiale cambierà da come gestisci i semafori a come risparmi sull'energia a come allerti la protezione civile a come crei posti di lavoro. Noi abbiamo su questo delle idee chiare. Però il punto è che quelli che pensano che i robot e l'intelligenza artificiale facciano paura sostengono che il lavoro è finito e che quindi bisogna dare un reddito di cittadinanza a tutti. La proposta del reddito di cittadinanza che prende spunto da queste riflessioni. Molti di noi ascoltavano il sociologo Domenico De Masi ben prima che lo ascoltasse la casaleggia. Lui parlava della fine del lavoro, dell'ozio creativo. A me ha sempre intrigato intellettualmente. Ma io penso che non sia giusto, torno a questa parola, giusto che un paese possa pensare di vivere di sussidi assistenzialismo, 780 euro per uno, se invece hai dei figli, 1680 euro. Tu non fai niente e hai 1600 euro in tasca. Dice basta portare un certificato medico, non lo so, ti immagini. Guardate che questo tema del distruggere l'idea del lavoro, che hanno in particolar modo i nostri competitor 5 stelle, ma che hanno anche altri dentro la logica della decrescita felice, che è felice solo per chi non decresce, è una logica, perdonatemi, pericolosissima, ma non è originale. Non è originale. Sono secoli che tutte le volte che c'è un'innovazione qualcuno si preoccupa. Sono secoli che quando qualcuno inventa qualcosa di nuovo c'è la preoccupazione che ci porterà via i posti di lavoro. Sì, porterà via alcuni posti di lavoro che nel passato c'erano e ne creerà nuovi, purché si abbia il gusto di scommettere sul lavoro e purché si dica che una Repubblica democratica fondata sul lavoro non può vivere di assistenzialismo. Ecco perché il Partito Democratico rivendica il Jobs Act con il milione e 29 mila posti di lavoro creati in quattro anni, rivendica l'investimento nella politica industriale, rivendica ciò che è stato fatto da Industria 4.0 ai PIR, all'innovazione, ma mentre rivendica, rivendica il futuro e dice che noi saremo in questa campagna elettorale il partito del lavoro, 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 non dei sussidi e dell'assistenzialismo. E saremo molto altro, a condizione che ci mettiamo in campo tutti insieme, il Partito dei diritti, certo, ma anche dei doveri. È inutile continuare a fare l'elenco. Io sono orgoglioso di aver messo la mia firma sulla legge sulle unioni civili, ma quando lo dico e lo dico ricordando che qualcuno in quell'aula quel giorno scappò per cui o noi mettevamo la fiducia oppure quella legge sarebbe logicamente venuta meno. E io sono orgoglioso di aver messo la fiducia mettendo a rischio il mio Governo per un principio di civiltà giuridica e umana. Ma bisogna smettere anche di parlare soltanto dei diritti, bisogna parlare anche dei doveri. Nel nostro viaggio interno ci siamo fermati tra i tanti luoghi simbolici. Abbiamo messo una rosa sulla tomba di Pasolini, abbiamo visto casa Gramsci, ma ci siamo fermati anche nella casa natale di Aldo Moro a Maglie. Ed è impressionante quel discorso di Aldo Moro in cui rivendica la necessità per questo Paese di una nuova stagione dei doveri. Guardate, la prima proposta di campagna elettorale non l'abbiamo fatta sulle tasse noi, che pure qualche credibilità l'avremmo. Non l'abbiamo fatta sugli 80 euro, anche perché avremmo trovato il tutto esaurito. Per quattro anni tutti a dire male degli 80 euro. Poi sono partiti di Salvini, no, ma io li ferrei. Di Maio, no, io li tengo. Per carità, le buone idee non hanno copyright. Il punto è che noi siamo partiti nella nostra campagna elettorale dal servizio civile, dal dire che siamo venuti ad Asti, nel comune di Asti, a fare un'iniziativa nel viaggio interno su questi temi, a dire che come siamo orgogliosi di aver portato da 890 a 53 mila i ragazzi che hanno fatto servizio civile con la nostra esperienza di governo, c'erano soldi solo per meno di mille e li abbiamo portati a più di 50 mila. Diciamo anche che dedicare del tempo, obbligatoriamente, non un anno, del tempo, io dico un mese, anche solo per imparare i principi, al fatto di servire la patria attraverso il servizio civile, ci porta in un nuovo orizzonte di identità culturale, di patriottismo dolce, di comunità che ha un'identità, e la parola identità è nostra, è di sinistra. George Orwell, 1941, 1941, verrà un tempo in cui il patriottismo e la sinistra torneranno a darsi la mano. Ed è questo il punto sul quale io vorrei che noi discutessimo ancora nelle prossime ore. Potremmo discutere di moltissime altre questioni, anche dell'evasione fiscale del canone. Matteo, ma tu sei partito col canone, quella del canone, non l'abbiamo capita, ho ricevuto almeno 60 email su questo. Perché dover promettere il canone? Noi il canone non lo mettiamo nell'elenco delle promesse, lo mettiamo nell'elenco dei risultati. Perché prima il canone non lo pagavano tutti. E non faccio qui sondaggi. Menchè mai referendum io. Mi capite? Il canone costava… tutti i governi della storia repubblicana hanno fatto crescere il canone. Era arrivato a 113 euro. Noi abbiamo detto bisogna pagarlo tutti. Si mette in bolletta. Perché quello accanto a me non deve pagarlo. È sceso a 100, è sceso a 90. Ora io non so se potrà scelto. Penso di sì. Io ho le mie idee, altri ne hanno altre. E non è importante adesso discutere del canone. Ci candidiamo alla guida del governo del paese e non dell'autorità delle comunicazioni. Quindi noi abbiamo un'opinione del canone importante, ma non è il punto fondamentale. Ma il principio della lotta all'evasione? Sì. Il principio di dire che se si paga tutti si paga meno? Sì. Il fatto che quando c'era il governo Monti con i finanzieri sotto i negozi a fare il gioco del cucù, il gioco del nascondino, poverini, costretti a inseguire i clienti, scusi signora faccia dello scontrino, il massimo che si è raggiunto è stato 11 miliardi di euro. Quando abbiamo iniziato a intrecciare le banche dati, da 11 miliardi noi abbiamo ricavato nello scorso anno 19 miliardi di euro della lotta all'evasione. Potremmo stare a domandarci perché per Silvio Berlusconi e Beppe Grillo la lotta all'evasione fiscale non è una priorità. Magari non ce l'hanno nelle corde, ma preferisco dire che noi ce l'abbiamo nelle corde. La lotta all'evasione è uno dei punti cruciali e il canone è il simbolo di questa lotta. Penso però che dobbiamo essere più coraggiosi noi e più orgogliosi e smettere di parlarci addosso. Dicevo che so che qualcuno di voi in queste ore, comprensibilmente, immagina di poter affrontare la grande sfida, di poter mettersi in gioco personalmente, di poter candidarsi. È fisiologico, è umano. In più questo modello di legge elettorale non agevola. Ah, ma perché l'avete voluta? Noi abbiamo voluto questa legge elettorale perché il Presidente della Repubblica ha chiesto a tutti di fare uno sforzo istituzionale e noi l'abbiamo fatto. Noi avevamo un modello diverso. Era quello del referendum, un ballottaggio e quello era molto più chiaro di tutti. Gli italiani hanno scelto diversamente. Ma questa legge elettorale ha un vantaggio. Costringe a metterci la faccia. Qualcuno di voi mi ha scritto una nota. Il sindaco di collegia. Bisogna impegnarsi, candidarsi, andare casa per casa, portone per portone. E bisogna contemporaneamente fare una battaglia. Certo, per la coalizione. Paolo ieri lo ha ricordato. È importante che ci sia questa battaglia ed è importante che il Presidente del Consiglio lo valorizzi. Ma contemporaneamente dobbiamo farla per il PD. Perché due terzi dei seggi dipenderanno da chi metterà la croce su quel simbolo lì. E fare la campagna per il PD vuol dire che magari non tutti voi sarete candidati. Leverei il magari. Nel senso che qualcuno sicuramente. è che se qualcuno di voi non sarà candidato, da lui ci aspettiamo il doppio dell'impegno. Perché non è una partita che riguarda qualcuno. È una partita di squadra. Ecco perché non è importante qual è il nome che andrà a Palazzo Chigi. È importante che sia del PD. E non per il PD. Per l'Italia. Perché se ci vanno gli altri abbiamo visto che cosa hanno fatto. Ecco perché noi in questa battaglia saremo una squadra dal primo all'ultimo giorno. Ed ecco perché vi chiedo una mano smettendo di tenerle in tasca alcuni di noi che vivono di dire però c'è il sondaggio, la preoccupazione. I leader, i sondaggi li cambiano, non li inseguono. Ed è bene essere chiari. Guardate le ultime elezioni. 2013 Bersani, 2008 Veltroni, 2006 Prodi, 2001 Rutelli. Nei 50 giorni prima delle elezioni i sondaggi dicevano cose diametralmente diverse. Noi 50 giorni prima delle elezioni del 2013 eravamo più 11 punti di quelli che abbiamo preso. Non è stata una campagna elettorale riuscitissima diciamo. Più 11 punti eravamo. Alla fine è finita come ricordate, più o meno pari con gli altri. Allora, se ci si crede, le cose si cambiano. Ma per cambiare bisogna alzare il livello della discussione. Essere molto concreti. Mercoledì la direzione, abbiamo spostata di 24 ore semplicemente per avere più tempo, per inserire tutti i punti, indicherà 100 cose che noi abbiamo fatto e 100 cose che vogliamo fare. La numero uno sarà il lavoro, partendo da quella proposta che è avvenuta anche all'ingotto 2017, marzo 2017, del salario minimo orario, che è una proposta di dignità e di giustizia e che abbiamo recuperato dal lavoro del partito e dal contributo di tutti. La proposta numero 100 sarà le finanze pubbliche. Noi ci impegniamo a buttare giù il debito. E buttare giù il debito pubblico non si fa con logiche di austerity. Perché se tu investi sull'austerity il rapporto debito-pil cresce. Per abbassare il rapporto debito-pil, questa è la scommessa della flessibilità, ma ne parleremo sabato a Milano, devi avere la forza di fare una misura, noi l'abbiamo chiamata operazione Capricorn, sul debito e contemporaneamente dare ossigeno alle imprese, alle aziende e alle famiglie a chi non arriva alla fine del mese. Il punto numero 1 è il lavoro, il punto numero 100 è la finanza pubblica, nel mezzo ai nostri diritti, ai nostri ideali, ai nostri valori, senza promesse. Noi però presentiamo i risultati. Noi presentiamo quello che abbiamo fatto. Io sarei curioso di leggere che cosa ha fatto Matteo Salvini in questi dieci anni in Europa. E perché rivede? Qualcosa aveva fatto. Io sarei curioso di capire se esistono dei risultati, perché talvolta non importa inseguire le fake news per non votare gli altri, basta vedere il curriculum vero, non le notizie finte. Alcuno diceva del curriculum, sai che c'è? Poco gli altri. Noi presentiamo i nostri dati, presentiamo i nostri risultati e presentiamo soprattutto un messaggio di concretezza che però, e vado alla chiusura, deve avere lo spirito dell'amministratore. Chi non ha fatto l'amministratore territoriale è una persona per bene, anche lui, vorrei essere chiaro. Ma è un uomo e una donna sfortunata. Lo dico sapendo che chi fa l'amministratore si spacca la schiena e talvolta quando va in comune qualche pensierino di insulti lo dedica anche al segretario del suo partito, a quello nazionale, non a quelli territoriali, anche a quelli territoriali talvolta. Ma tu non hai mai avuto nella vita un dono più grande di quello di fare il sindaco. Ricordatevelo da uno che ha avuto tanti doni e che tutti i giorni la mattina si alza e dice ma Renzi è arrabbiato. Io tutte le mattine mi alzo e devo solo dire grazie per quello che è la mia esperienza quotidiana, personale, umana e professionale. Altro che rancore, altro che rabbia, io la mattina mi alzo e dico grazie, anche perché penso che una persona che non sa dire grazie è una persona che non sa vivere. E quindi da questo punto di vista saper dire grazie è una delle cose più belle che possa accadere nella vita di una donna e di un uomo. Però se c'è un motivo per cui vorrei dire grazie è perché ho fatto sindaco, che è una cosa difficilissima. Ti danno la colpa di tutto, dal clima nel senso condizioni climatiche. Eh ma oggi ha nevicato, eh ho capito, nevicato, succede. A come un'azienda non riparte? Tu lì sai che non hai gli strumenti se non rompere le scatole all'assessore regionale, andare all'unità, tutte cose importanti. Però chi fa l'amministratore ha un grande dono anche perché tiene insieme la doppia dimensione, che è quella che ci serve in questi 50 giorni. Il risultato concreto è però non rinuncia al sogno. Leggo tanti professionisti che in questi giorni ci stanno dicendo vogliamo soltanto progetti verificabili, concretizzabili, vogliamo fare il test di ogni proposta, vogliamo andare a vedere nella campagna elettorale ogni tipo di centesimo. Sì, noi lo facciamo. Per ogni proposta mettiamo la copertura. Però poi per chi fa politica c'è anche una cosa più grande, che non è riempire di sogni il programma elettorale, ma è invitare i tuoi concittadini a non perdere il gusto di sognare e di pensare in grande. Perché se l'Italia smette di sognare, l'Italia è un paese finito. Se l'Italia smette di puntare in alto, non riuscirà a uscire dalla situazione che tutti i giorni le viene attribuita e addebitata. E guardate che questo è un tema che riguarda anche il PD e riguarda anche il PD. Noi possiamo dare un messaggio ai moderati e alla sinistra di voto utile. Sì, dobbiamo darlo. Un voto che viene dato alla sinistra radicale o presunta tale in questa città, porta, o in questo collegio, in questa provincia, in questa regione, porta a passare più probabilmente un candidato di destra. C'è un voto solo, è secco, non c'è il voto disgiunto. Per com'è la legge elettorale? Se c'è uno che viene da una grande storia di sinistra e vuole votare la sinistra radicale, deve sapere che rischia di mandare un leghista in Parlamento o alla guida di una regione, altrove. È così. Quindi noi possiamo fare un appello al voto utile. Così come possiamo fare un appello al voto utile sui moderati. Guardate che le persone moderate, tante, anche in Piemonte, lo vedono nell'azione quotidiana, i passi in avanti, il bicchiere mezzo pieno. Non sto dicendo che è tutto bello e viva madama la Marchesa. Lo vedono il bicchiere mezzo pieno. E lo sanno che quelli che oggi tornano come se fosse niente accaduto e promettono miracoli, mari e monti, sono le stesse persone che hanno governato per decenni senza risolvere nessuno dei problemi che oggi in modo miracoloso promettono di affrontare. Lo sanno, i moderati lo sanno che noi siamo quelli che possono mettere in sicurezza il loro futuro, i loro figli. Però non possiamo fare la campagna elettorale sul voto utile. Vedo qualche esperto in prima e ultima fila che dice facciamola anche sul voto utile. E vi capisco. Mi piace quando entra il clima la campagna elettorale. Ma io penso che noi siamo una cosa diversa. Noi siamo la forza e il coraggio di questo paese. Forza e coraggio è una cosa che si dice per tirar su di morale, no? Ma io ho pensato di doverci dire forza e coraggio perché talvolta trovo gente che dice vabbè, chissà come va. E quindi mi piace dire forza e coraggio, mi piace esortare, mi piace dire grinta, mi piace questo. Forza, forza, forza e coraggio PD. Ma non è un'esortazione, basta. È una carta d'identità. Se voi guardate che cosa è accaduto in Europa e nel mondo in questi anni, ti rendete conto che se l'Italia è uscita dal cesto dei paesi difficili ed è entrata tra quelli che provano a giocare un ruolo in Europa, che provano a giocare una partita a livello internazionale, è perché c'è stata una forza politica che non ha avuto paura. Noi siamo la forza di questo paese e l'Italia ha bisogno di forza, non ha bisogno di debolezze, non ha bisogno di continui strascichi polemici e noi siamo il coraggio. Il coraggio di provarci, talvolta anche di sbagliare. Sì, sì. Abbiamo anche subito delle sconfitte, ci hanno fatto male, sì. Ma subisce sconfitte chi ci prova, non chi sta fermo attaccato alla poltrona per non fare niente dalla mattina alla sera. Può perdere chi ci mette il cuore, perché coraggio viene da questa parola, avere un cuore in latino. E allora, caro PD, forza e coraggio. Abbiamo bisogno di forza e coraggio, quindi abbiamo bisogno di noi stessi. Andiamo a vincere queste elezioni, andiamo a giocare questi 50 giorni all'attacco e non sulla difensiva col catenaccio. Viva Torino, viva il PD, viva l'Italia. Adesso mi raccomando, dopo l'intervento del segretario Renzi, continuano i nostri lavori. Rimaniamo in sala, perché continuano dopo l'intervento del nostro segretario Renzi. Invitiamo intanto...